Good morning roleplayers, benvenuto amico al nostro solito appuntamento, ormai quotidiano, se non esageriamo, però sicuramente plurisettimanale, non lo so, comunque meglio di gente, dedicato a persone, storie, emozioni e soprattutto giochi di ruolo. Per cui, ferma tutto, i prossimi 5 minuti sono nostri. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una commissione che mi affascina terribilmente, board game e roleplaying game, cioè giochi da tavolo, tra virgolette quelli strategici, tattici, economici, gestionali, eccetera, eccetera, e i giochi di ruolo. Perché mi affascina questa cosa? Perché mi ha sempre affascinato, ed è anche un po' per quello che preferisco, i giochi un po' più di stampo moderno rispetto a quelli tradizionali, la commissione tra meccanica e la storia che viene creata. Mi ricordo quando negli anni 90 giocavo Rechiamo di Cthulhu e mi chiedevo quanto importante fosse tirare il dado, che tipo di dado, le meccaniche all'interno del gioco, cioè alla fine ci si raccontava una storia, anzi, nella verità all'epoca pensavo, c'era l'avventura preparata dal master e come in un videogame gli altri giocatori la scoprivano piano piano, ogni tanto tirando, superando un ostacolo in modo a scoprire un altro pezzetto di storia e avanti così, cercando di risolvere gli enigmi, un po' con il dado e un po' con la testa e via così. Ora pretendo qualcosa di più, ora pretendo che ci siano delle meccaniche che spingono in una direzione, che per farmi provare una determinata esperienza di gioco, che possa essere di stampo simulazionistico, se vogliamo chiamarlo così un po' per confondere i termini, non c'è una vera nomenclatura unica e forse questa è una mancanza nei giochi di ruolo. E dicevo, pretendo verso una certa direzione, se il gioco vuole farmi ricreare una storia d'amore che spinghi quella direzione, con delle meccaniche che tendano a farmi provare i sentimenti che si provano quando inizia una storia d'amore, oppure una comunità nell'apocalisse zombie, oppure una comunità post-apocalittica, oppure giovani adolescenti, insomma, oppure avventurieri nel dungeon ci sta, oppure fantascienza, fantasy, ognuno di queste tematiche, ognuno di questi obiettivi è degno di essere esplorato per chi lo vuole, ma soprattutto di essere fatto in maniera esemplare e in maniera intelligente. Ho già parlato altre volte, io distingo in tre parti la composizione del giocare di ruolo, cioè c'è l'autore che è presente al gioco e quindi detta le regole, c'è il gruppo che combina insieme diversi fattori emozionali, personali e le regole per ottenere la giocata e quindi c'è anche l'elemento personale. Ora, la persona, il gruppo e il gioco devono combinarsi perché si ottenga una giocata piacevole e soddisfacente. Se manca il gioco, il gruppo può sopperire attraverso una buona commissione, una buona chimistri tra i vari elementi, oppure un GM che è particolarmente bravo a sistemare le falle nel gioco. Se manca la commissione di gruppo, magari il singolo comunque può trarne beneficio anche da altri elementi, non dal gioco, non dal gruppo, ma personali, per cui sotto anche questo punto di vista si può sopperire. Certo che però se cominciamo con un gioco fatto bene, che spinge in determinate direzioni, che mette d'accordo il gruppo e che dà una direzione da seguire al singolo, allora è più facile per tutti gli altri andare in una direzione soddisfacente. Condizione non sufficiente, ma necessaria, ma sufficiente. Comunque, perché board game e role playing game? Ho sentito da molti dire, ah questo gioco è troppo gioco da tavolo e poco gioco di ruolo. Cosa si intende con questa cosa? Io ho paura che si intende un'altra cosa, cioè non è l'essere gioco da tavolo il problema, è quando le meccaniche non ti spingono a creare una fiction che sia soddisfacente. Cioè quando nel gioco è sufficiente tirare i dadi, muovere una pedina, gestire risorse sulla propria scheda senza creare, senza dover creare una storia insieme agli altri, senza dover ricreare un mondo insieme agli altri, uno spazio immaginario condiviso, allora c'è un problema. Ma allora il problema non è dell'essere board game, il problema è che le meccaniche sono sterili e quindi dovrebbero essere fatte meglio. Cercando di progettare dei giochi, cercando di progettare dei giochi, a me è capitato di pormi questa domanda. Per esempio una soluzione che ho trovato è nel dover comunicare a qualcun altro. Nel mondo dei giochi tradizionali c'è la comunicazione col master. Se il master non trova soddisfacente quello che stai dichiarando, te lo fa notare. Negli giochi in cui non c'è questo arbitro sopra, questo master sopra, che giudica quanto stai giocando bene, tra virgolette, di ruolo, deve essere il gioco che spinge a fare una soluzione, potrebbe essere quella di comunicare con gli altri. Quando tu devi passare attraverso una descrizione della storia per far muovere le dinamiche da board game, allora sei costretto a raccontarla quella storia, che non sia semplicemente un muovo una pedina da qua a là, ma corro, scatto, muovo senza farmi vedere, guardo in alto la guardia che mi sta sorvegliando e poi di conseguenza mi muovo dietro al cespuglio che c'è lì, il famoso fictional positioning, renderlo importante, ma non solo, rendere importante anche quello che si fa in fiction per andare a condizionare le meccaniche. Perché? Perché ho bisogno di questa parte, un po' da gamer, un po' da bambino forse, però sicuramente che è parte del mio background, che ha bisogno di risorse da gestire, ha bisogno di meccaniche da far funzionare, ha bisogno tra virgolette di essere smart, di essere clever, di essere più intelligente del gioco. Ecco per esempio io adoro Pandemic con la sua meccanica che non è competitiva, è cooperativa, ma lo stesso dà quella sfida in gioco, dà quella sfida che mi piace, senza essere eccessivo, senza essere mortificante. Ecco, una cosa del genere. E voi? E a voi cosa piace? Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa ne pensate di board game, cosa ne pensate di role play game, cosa ne pensate del mix della commissione? Se vi piace una cosa tipo, ma per citare qualcosa di molto leggero, Arcipergo, Witch, Monsegur, oppure qualcosa di un po' più pesante, io sto scoprendo Fate da questo punto di vista, sto scoprendo come togliendo tanta roba che il manuale di Fate base necessita di spiegare per dare tante possibilità di gioco di ruolo, ma togliendole per esempio come in Pataphysic Wonder ha fatto Alberto e Daniel, io sto scoprendo una meccanica leggera, ma pagante anche dal punto di vista di gestione risorse con il puntifato e con i bonus che vengono attribuiti, quindi spendere i puntifato, gestire gli aspetti, il fictional positioning e gestire questi vantaggi come risorse in gioco per avvantaggiarsi sulla fiction e andare a scrivere la storia. Ecco, a me questa cosa sta piacendo un casino. A proposito, stasera siamo live con Pataphysic Wonder. Mi raccomando amico, non mancare. A domani!